Dottore Giuseppe Mucichè, la Coldiretti è impegnata in questa campagna di vaccinazione? Sì, assolutamente sì. Coldiretti in tutta la Sicilia sta cercando di raggiungere quelle zone, soprattutto dell'entroterra, dove magari il servizio sanitario con più difficoltà riesce ad arrivare per far sì che i nostri associati, gli agricoltori, possano essere vaccinati. Lo stiamo facendo qui a Santa Margherita Bellici, l'abbiamo fatto già a Canicattì per quanto riguarda la provincia d'Agrigento, ma devo dire che l'iniziativa si sta facendo in tutta la regione. Parliamo di Trapani, parliamo di Caltanissetta, parliamo soprattutto della zona dei paesini del Messinese, comuni con poco più di un centinaio di abitanti, dove nessuno di loro erano vaccinati, e le settimane scorse, come avete visto anche le media nazionali, sono stati raggiunti appunto dalla Coldiretti con l'aiuto sempre dell'Asp, affinché potessero appunto ricevere il vaccino nella loro città. Io onestamente ho conosciuto Coldiretti per affrontare tutt'altro le problematiche che riguardano il settore agricolo-zootecnico a livello regionale siciliano. Devo dire che ho riconosciuto in Coldiretti una delle poche organizzazioni di categoria che è presente sul territorio in maniera molto attiva, operativa e fattiva. E parlando col direttore generale regionale di Coldiretti, il dottor Sorbo, mi ha messo a conoscenza di questa campagna che avrebbero avviato a sostegno sostanzialmente della divulgazione, della promozione della vaccinazione soprattutto anche per i settori, per gli operatori dell'agricoltura e di buon grado ho accettato l'idea di coinvolgere anche il nostro comune e soprattutto la Casa della Salute che è una delle pochissime iniziative che ci sono sul territorio regionale e che escono un po' dai canoni istituzionali con il supporto però importante della politica regionale e soprattutto anche il movimento di Covene che si è fatto promotore di questa iniziativa. Dottore Sanzeira, a che punto è la vaccinazione distribuita nelle varie zone del territorio, del comprensorio, chiamiamolo di sciacca, possiamo definirlo? Io ho visto dei dati stamattina, la vaccinazione è a buon punto, devo dire che ho visto anche il dato di molti comuni della provincia e il comprensorio di sciacca è molto più avanti di tante altre, questo non per meriti particolari perché c'è stata comunque una buona organizzazione, c'è stata soprattutto una buona collaborazione con i sindaci, c'è stata una buona risposta da parte della popolazione e questo fa sì che ci incoraggia a continuare in questa direzione. A Santa Margherita c'è stata oggi questa bellissima esperienza con il Diretti, con l'esercito che ci sta collaborando per queste sedute speciali e comunque qui però grazie ai sindaci, all'onorevole Rocco Rolo come sindaco di Montevago, a quello di Santa Margherita e di Sambuca, abbiamo messo su un centro vaccinale che sta producendo veramente degli ottimi effetti. Tanta popolazione si sta vaccinando, tanta popolazione risponde bene e quindi siamo soddisfatti. Quella di oggi è sicuramente un elemento in più che si aggiunge, un tassello in più con la collaborazione, anzi la presa in carico diciamo così di col diretti che si fa portavoce di una vaccinazione tra gli agricoltori, tra chi è associato, tra chi non può raggiungere ancora una volta gli abbe vaccinali, quindi arrivare sui territori periferici credo che sia anche questa una cosa a cui tutti abbiamo posto attenzione. Devo dire che Santa Margherita di Belice, la casa della salute, ancora una volta diventa in questo momento centro vaccinale anche per questa categoria e soprattutto per questa iniziativa che col diretti sta portando in giro per tutta la regione, soprattutto come bene diceva prima il responsabile, il dottore Micichie, soprattutto nelle periferie perché sono quelle periferie che a volte non riescono ad arrivare nei grossi abbe vaccinali e questo sicuramente è una cosa positiva. Vedo tanta gente che si avvicina, vedo che i numeri sulle vaccinazioni aumentano e l'altro elemento in più da aggiungere è la nuova circolare che l'assessorato ha emanato nella giornata di ieri, devo dire più volte la Commissione Salute, io per prima, abbiamo sollecitato a vaccinare i senza fissa dimora, gli stranieri temporaneamente nel nostro territorio, non solo gli immigrati, tutti coloro che non sono in regola con una carta di identità, abbiamo spinto a queste vaccinazioni perché ce lo chiede l'ufficio Migrantes e da oggi c'è una disposizione che uniforma tutto il territorio regionale a che anche queste categorie di persone possano avvicinarsi alla vaccinazione e possano farla. Quindi certamente la macchina cammina, il caldo di questi giorni non ha aiutato, le diverse defezioni che ci sono state sul vaccino AstraZeneca ha creato dei vuoti in alcuni momenti, però mi pare che la situazione sia abbastanza positiva, ringrazio ancora una volta i medici del comprensorio che si sono offerti proprio qui nella Casa della Salute per poter vaccinare e questo è stato un grande aiuto, ringrazio le associazioni tutte che si sono mobilitate, ringrazio il dottore Idiola che continuamente fa da pungolo perché tutto vada secondo le disposizioni, ma lasciatemi salutare e ringraziare anche il dottore Sanzeri, il direttore del distretto che veramente con molto spirito di collaborazione ha fatto sì che in questo centro si potesse vaccinare e siamo arrivati a numeri notevoli perché quando si comincia a vaccinare 100-200 la settimana, ormai sono settimane che procede la vaccinazione, devo dire che questo centro ha coperto un grosso numero di soggetti o ha raggiunto un grosso numero di soggetti che si sono vaccinati. Un altro elemento importante oggi nella nostra provincia è l'aiuto che è arrivato dall'esercito, avere anche dei vaccinatori che vanno ad aggiungersi ai medici che già di loro lavorano per smaltire quanti più vaccini possibili è sicuramente un elemento più, quindi un grazie all'esercito per quello che sta facendo a livello nazionale col commissario Figliuolo e per quello che in Sicilia sta facendo l'esercito a supporto del lavoro dell'assessorato regionale per la salute e oggi anche nella nostra ASP con oltre 40 unità che si sono aggiunte per continuare le vaccinazioni.